Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Sono entusiasta di accompagnarvi in un viaggio attraverso le parole appassionate di Paolo Crepé, un maestro nell'arte di esplorare i meandri dell'amore e della passione. Oggi ci immergeremo nelle sue riflessioni avvincenti e poetiche sul significato dell'amore e sulla straordinaria avventura che è la vita. Nella danza dell'amore, Paolo ci insegna che il vero amore è quell'affetto scomodo, un emozionante brivido che sfida la paura. È un viaggio intrapreso con coraggio, un viaggio che vale ogni battito del cuore. Paolo ci ricorda che le pene d'amore, anche chiamate cacofoniche, sono un linguaggio che solo l'italiano sa parlare così bene. Perdere la testa, ci dice Paolo, è un miracolo che accompagna l'innamoramento. È il vestito di Valentino, è un'esperienza unica e irripetibile. Ma perché la testa deve stare sempre ferma? Perché perdere la testa è bello, è il trampolino di lancio verso la grandezza. Grandi uomini come Michelangelo hanno perso la testa per realizzare opere che sono rimaste nella storia. La passione è il motore della vita, e Paolo ci spinge a guardare dentro di noi per scoprire quel vento travolgente che è la passione. L'emozione, spiega, non è un lampo, ma qualcosa che costruiamo dentro di noi. È la forza che ci fa girare tra le lenzuola mille volte in una notte, è il coraggio di prendere il primo treno alle 5 del mattino per inseguire ciò che amiamo. Paolo ci invita a preservare il nostro sogno, a perseguire il dovere reale che è superiore persino al dovere morale. La felicità, sottolinea, è ciò che ci rende veramente vivi. Non possiamo cadere nella trappola della comodità, perché solo ciò che è scomodo è intelligente, e solo ciò che è intelligente rimane nella storia. In conclusione, cari amici, Paolo Crepe ci ha regalato una lezione preziosa sulla vita, sull'amore e sulla passione. La testa persa, la passione travolgente, il coraggio di inseguire i nostri sogni, sono questi gli ingredienti di un amore che ci meritiamo. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio emozionale. Alla prossima avventura!